E' stata riaperta il traffico questo giovedì nel tardo pomeriggio via 4 novembre l'arteria che percorre il centro di Ponte Nosso nella zona di Campolongo chiusa da circa sette mesi per lavori. Le opere portate a termine hanno riguardato sia il rifacimento completo della rete dei servizi che la riqualificazione della strada diventata definitivamente percorribile solo a senso unico e corredata di numerosi elementi di arredo urbano. Va benissimo, ma credo anche che sia tutti i miei critichi, i miei rompiscatole, i miei rompiscatole, però non sei a posto. Il risultato finale dei lavori, in un primo tempo contestati soprattutto dai commercianti, sembra ora suscitare il gradimento generale con la speranza che via 4 novembre torni ad essere, molto più bella di prima, il cuore della vita sociale e commerciale della comunità di Ponte Nossa. Più che altro speriamo che torni almeno, se non tutta, almeno un po' di gente. Ma il fatto che adesso sia così bella, così tranquilla non potrà secondo lei richiamare più gente che va anche a passeggio? Guarda, io lo spero, io parlo per me e lo spero, ho un po' di dubbi, però lo spero. Sarà un po' duro recuperare il terreno perso perché un fermo di sette mesi ha, credo, compromesso un po' anche le nostre attività. Certo che sono contento, il lavoro è un bel lavoro e sono contento di quello che è stato fatto. L'unica cosa, magari si poteva fare un po' in meno tempo perché un po' abbiamo sofferto, su questo non si può nascondere, però è una cosa bella. Abbiamo avuto sicuramente i nostri disagi, ci siamo adattati, però adesso siamo contenti che il lavoro sia finito, non pensiamoci più e speriamo che veramente Ponte Nossa diventi un paese di passeggio e anche che entrino nei nostri negozi e anche di shopping soprattutto. Grazie a tutti.